Sul futuro chi lo sa, chi può dirlo. Io ho tanti progetti, soprattutto con il mio marchio Rinaldini Pastri, ma soprattutto voglio fare qualcosa sempre di più per i giovani. Già da tanti anni ho creato concorsi internazionali dedicati ai pasticceri juniores, dedicati alla pasticceria femminile, ma voglio fare di più per i giovani italiani, soprattutto per farli crescere con professionalità in questo mestiere.